Dove mi porti in giro, mueri? Brum! Brum! Dove mi porti? La famiglia Ferragni ha scelto la pittoresca Val di Fassa per trascorrere il weekend dell'Immacolata, immergendosi in un'atmosfera magica e divertente. Il centro di tutte le attività è il loro hotel family friendly, ricco di giochi e intrattenimenti sulla neve. Perfetto per il piccolo Edo. Insieme a loro c'è la fedele cagnolina Gabriella, considerata un membro a tutti gli effetti. Solo in rare occasioni, Gabriella rimane a casa con i suoi ceri di Francesca Ferragni. La scelta della Val d'Osta si rivela una decisione perfetta, poiché la regione si rivela meravigliosa, offrendo paesaggi mozzafiato e un'ampia gamma di attività per tutta la famiglia. Grazie a tutti.